E continuano le aggressioni a medici e infermieri nei reparti ospedaliere e nei consultori. Così la ULS 4 veneziana ha deciso di correre ai ripari, distribuendo fischietti al personale per chiedere aiuto in caso di pericolo. Rossana Caviglioli. Un fischietto per chiedere aiuto. Una delle misure sperimentali introdotta negli ospedali di San Dona di Piave, Porto Gruaro e Jesolo per proteggere medici e infermieri dalle aggressioni sempre più frequenti da parte dei pazienti e dei loro familiari. Minacce ma anche schiaffi e pugni, episodi in continuo aumento tanto che si è passati dai 23 casi registrati nel 2016 ai 45 del 2017. La sperimentazione riguarda medici, infermieri e altri operatori e riguarda alcune unità operative che sono i pronti soccorsi, i punti di primo intervento del litorale, il consultorio, il CERD e i reparti di psichiatria. La sperimentazione durerà sei mesi e all'esito della sperimentazione poi l'idea è di trasferire questo progetto a tutti i reparti ospedalieri. Assieme al fischietto sono previsti corsi di aggiornamento per imparare come reagire in situazioni di pericolo. Un modo, spiega la ULS4, per tutelare non solo il personale ma anche gli altri pazienti vittime a loro volta di un clima pesante e di cui si chiede la collaborazione. Anche il cittadino può essere una barriera, un aiuto in questi casi perché è importante che venga compreso che ogni episodio di violenza contro un operatore sanitario è un grave autogol per il paziente e per il cittadino perché crea un danno alla struttura sanitaria, crea un danno proprio ai processi sanitari. Grazie